Allora, proviamo col Ministero, Grazie e Giustizia. Come hanno registrato sulla rete? Ma chi è sta di? L'altra volta ho chiamato. 06 6 8 8 5 1 L'ho registrato sulla rete. Ma se l'altra volta ho chiamato? Mannaggia, la miseria. Vabbè. Anche in questo caso passiamo al piano B. Grazie.